So this is Christmas And what have you done? Messaggio di augurio di Buon Natale e Felice 2009 a tutti i concittadini di Alia che si trovano nel mondo Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale del Presidente del Consiglio e del Consiglio Comunale E che purtroppo il 2009 Anche se si pensa che si darà un anno un po' di crisi in tutto il mondo Perché le cose nel mondo non vanno bene Un grande augurio perché si affronti questo 2009 Si cerchi di uscire tutti da questo triste momento E pensando sempre positivo Spero per tutti voi, per le vostre famiglie E che regni soprattutto la pace, la salute, l'armonia E perché no Un grande avvenire per le successive nostre generazioni Io sono sempre disponibile E l'amministrazione è sempre disponibile ad accogliere i vostri input Le vostre richieste Perché i cittadini del mondo Da parte mia e della mia amministrazione Sono sempre attenzionati e saranno sempre messi in primo ordine Perché penso che chi è fuori dal nostro piccolo paese La nostra piccola realtà Ha quando vede qualcosa del suo paese Una grande emozione Prova qualcosa nel cuore Che sicuramente non potrà mai dimenticare Per cui un saluto E un grande, grande, grande Buon 2009 a tutti voi E speriamo di vederci sempre presto E sempre bene e in ottima saluta Ciao, sono Francesco Mazzarisi Auguro a tutti gli aleti nel mondo un buon Natale Sono Alessandro D'Alia E vi faccio gli auguri di buon Natale Di un saluto anno nuovo a tutti i concittadini del mondo Auguri a tutti gli aleti nel mondo Ragazzino Drago e vi ascoltiamo D'Alia a tutto questo Un bacio a tutti Un augurio a tutti i miei compaesani Che sono sparti nel mondo A tutti i miei cari Un augurio a felicità Io sono Salvatore Miceni Domare dell'Officina Vi auguro un buon Natale E un felice anno E cordiale saluti a tutti voi Che ci state ascoltando Della nostra collaborazione E del vostro impegno Auguri Faccio gli auguri a tutti i buon Natale A tutti i buon cittadini del nostro paesale Che si trovano all'estero Dalla parte dei peccucci cent'anni Un buon Natale alle famiglie E un buon anno per tutti Ciao sono Carmelo Pinzi Auguro a tutti gli aleti nel mondo Un sereno Natale E un felice anno nuovo Vi ricordiamo con tanto affetto Tantissimi auguri Ciao Ciao a tutti i buon cittadini del mondo Sono Elvira Cuccione Voglio fare gli auguri di buon Natale E felice anno A tutti gli alesi lontani Che ci guardano Ecco Speciali auguri per i miei cugini E la carissima zia D'Aresa Un bacio a tutti Ciao Sì questa è un'occasione Per augurare ai nostri concittadini Che sono sparsi in tutto il mondo Un buon Natale Un buon felice anno nuovo Vogliendo l'occasione Per far presente a loro Che noi siamo in perenne attesa Di poter instaurare Un dialogo costante e continuo Il Comune in questo senso Ha intrapreso delle iniziative Tra queste c'è quell'incontro estivo Che facciamo tutti gli anni Però vorremmo contemporaneamente Anche approfittare Per dire che sarebbe utile Per ricevere proposte Da parte di tutti i nostri concittadini Tutti gli alesi nel mondo Al fine anche di contribuire A elevare il livello culturale Sociale e economico Della nostra cittadina di anni Quindi il ricordo è Permanentemente verso di loro E contestualmente anche utilizzare Il sistema che abbiamo Della posta regione Del nostro sito di Assalca stesso Per poter anche far sì Che questo rapporto Sia costante e fruttifero Per ambe due le parti Nell'interesse generale Della comunità E delle nostre tradizioni Carissimi concittadini Carissimi concittadini E amici miei del mondo Vi auguro buone feste Felice Natale E uno splendido 2009 Vi aspetto Vi aspetto qua in Sicilia Per farvi conoscere La nostra bella terra E saluto in particolare E saluto in particolar modo Il consigliere auguro a tutti Un felice anno nuovo E un buon Natale A tutte le famiglie Che sono all'estero Di Alia Tanti auguroni A tutti Auguri a tutti i concittadini Nel mondo Da parte del consigliere Comunale di Alia Auguri 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 Tanti auguri Volgo l'occasione Per fare Tanti auguri A tutti A chi vi conosce E anche a chi non vi conosce Perché abbia un'origine di Alia Auguri Buon anno Buon feste E Ad Maria Lei è da per te Auguri di un buon Natale E di un bellissimo A tutti i concittadini Che si trovano Fuori Nazione In qualsiasa parte del mondo Auguri E felice Capodanno E auguri Buon Natale Buone feste A tutti I nostri concittadini Del mondo Qua da noi Alcuni vicini di casa Di via Garibaldi Giovanni Faro Massimo Tripi E Salvatore Costanza Vecchi E Giovan Tanti auguri Tanta felicità Con tutte le difficoltà Che ci sono Ciao Ciao a tutti Forse mi avete riconosciuto Sono Pino Costanza Auguri a tutti Un buon Natale E un felice anno nuovo A tutti gli amici del mondo Ciao Ciao Sono Adoardo Auguri a tutti I cittadini aliesi Del mondo Un felice Buon Natale E un felice anno nuovo Ciao a tutti Sono Stefania Candice A tutti gli amici sparsi nel mondo Per motivi di lavoro O qualsiasi altro motivo Che sono lontani Da questo caro paese Auguri un buon Natale E un felice anno nuovo Vi auguro Un sereno Natale Un felice anno nuovo Che il 2009 vi porti a tutti Quello che il vostro cuore desidera Principalmente pace Gioia Salute E serenità Nella speranza che Più che sentirci O tenerci in contatto virtualmente Che il tuo cervello Si sta sempre distanti Possiate ritornare tutti Qui ad Alia E magari ritrovarci insieme Non magari nel periodo estivo Ma in qualunque periodo dell'anno Con l'occasione magari di Riuscire a trovare un lavoro E di avere l'opportunità Di poter vivere con le vostre famiglie Che avete lasciato tanti anni fa E questo è quello che vi auguro Di avere magari la mia stessa fortuna E la fortuna che tanti altri aliesi hanno avuto Coraggio E auguri Auguri di buono Questo video adesso ti ho realizzato Cari amici Per essere vicini a voi Per farvi sentire Meno lontani dalla nostra area Vi auguriamo Tanta serenità Un buon Natale Un sereno anno nuovo A voi tutti ancora tantissimi amici Ciao Un buon Natale 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 Grazie a tutti.